Calcio mercato, parliamo del Pescara, cosa è successo nelle ultime ore, eccolo qui, ce lo racconta Massimo Profeta. Buonasera Massimo. Sì, buonasera a te e a tutti gli amici Visione all'ascolto. Sono notizie importanti perché venerdì il Pescara chiuderà sia per Luca Mora che per Emmanuel Jaboua, giocatore italo-ganese classe 2001, arriverà in prestito secco dall'Atalanta. Luca Mora oggi ha pranzato con Sebastiani e Delicarri a Pescara, non ci sono problemi, ha sciolto tutte le riserve, per così dire, tra virgolette. Venerdì firmerà il contratto di un anno con opzione, insomma Mora non ha bisogno di presentazioni, classe 88, circa 150 presenze in Serie B, 200 in Serie C, ha vinto anche due campionati consecutivi con la SPAL nel 2016 e nel 2017, doppio salto dalla C alla A con semplici allenatore. Poi si è ripetuto anche allo Spezza nel 2019-2020, promozione della Biala con Vincenzo Italiano, nell'ultimo anno e mezzo è tornato alla SPAL. Dicevamo di Emmanuel Jaboua, eccolo qui in foto, che una mezzala, ripetiamo, italo-ganese, giovedì rinnoverà con l'Atalanta e poi sarà girato in prestito secco dal club orobico. È un giocatore d'utile, corsa, aggressività e discreta tecnica. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per il metodista Salvatore Pezzella, classe 2000 di proprietà della Roma. C'è l'accordo totale con il club giallorosso, ma il giocatore che ha militato nel Siena, nella regione del Modena, nelle ultime tre stagioni, aspetta una chance in Serie B. E poi le altre notizie. In arrivo dal Chisola, una notizia che confermiamo, l'abbiamo già data oggi nel TG 8 delle 14 e 30. Il Chisola è una società piemontese che ha centrato la promozione in Serie D, nello spareggio con l'Aquila. Il classe 2002, Gianluca Germinario, ruolo mezzala e una scommessa del DS Daniele Delicarri. Valutazione in corso sul portiere da affiancare a Daniele Sommariva, che è arrivato a titolo definitivo dal Monza, perché non sarà Satalino, di proprietà della Sassuolo, non sarà Russo, ex Entella, anche egli di proprietà della Sassuolo. Tra i candidati c'è sempre Guidotti, classe 2000, di proprietà della Fiorentina lo scorso anno. Brillante protagonista nel Gubbio, è stato uno dei migliori portieri del Girone B del campionato di Serie C. Il nome nuovo però è quello di Jacopo Furlan, classe 1993, di proprietà dell'Empoli, 150 presenze in Serie C, però attenzione perché su Furlan c'è anche un club di Serie B. Ieri vi abbiamo detto della firma di Facundo Lescano, che è stato ufficializzato oggi dal club Biancazzurro, naturalmente percorso inverso per Clemenza, Clemenza che è stato ceduto a titolo definitivo a Lentella. Oggi ha firmato il giovane laterale mancino Davide De Marino, 22 anni, arrivato appunto dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e non più obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B del filo. Domani visite mediche per il terzino destro Matteo Saccani, prestito secco dalla Sassuolo, per il portiere come vi dicevo di anzi Daniele Sommariva che arriverà a titolo definitivo dal Monza, per Luca Lombardi anche egli a titolo definitivo classe 2002 lo scorso anno in prestito dal Monza alla Vis Pesaro e poi il ventenne centrocampista sia Tunis che non ha ancora deciso se accettare l'offerta del Pescara approderebbe comunque al Delfino in prestito secco. Si tratta di un centrocampista che funge più che altro da schermo davanti alla difesa. Giovedì invece sarà la volta di Luigi Cuppone, classe 97 che è arrivato dalla Cittatella in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. 15 gol dell'ex attaccante di Casertana e Potenza nel prossimo campionato di Pescara oppure la promozione del Delfino in Serie B con il 60% delle presenze della classe 97. C'era una notizia che riguarda anche Giambo, franco senegalese, cresciuto nel Pescara classe 2001. Attenzione, probabile risoluzione per motivi familiari. Infine vi abbiamo già detto dell'amichevole, del test saltato con il Padova che era in programma sabato 23 luglio a Rivisondoli. si sta cercando un altro avversario, anzi è stato già deciso perché sarà la Dana Demir Stor, club turco che è allenato da Vincenzo Montella nelle cui fila milita Mario Balotelli. Questa partita si giocherà domenica 24 luglio a Palena. È tutto per il momento, la linea torna a te.